bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video io sono maullo941 e siamo tornati su slithery oggi ragazzoni allora questa è l'ultima volta che ho porto slithery se noi oggi riusciamo ad entrare in classifica allora io mi impegno e porterò un altro episodio in cui cercheremo di fare meglio se io oggi maullo941 non riesco ad entrare in classificazione i miei slithery io per me ci posso mettere una croce sopra noi abbiamo cambiato skin non mettendo i codici come mi hanno suggerito su vari commenti ma semplicemente cliccando in basso a sinistra su change skin abbiamo messo una skin un po più particolare ovvero quella di deadpool se il gioco riesce a caricare dai connessione internet non mi abbandonare ti prego papamaullo che te lo chiede papamaullo è sempre qui non è mai abbandonata niente non vuoi partire ragazzi siamo partiti ne è morto uno vicinissimo qua da noi magna magna qualcosa magna qualcosa zio magna qualcosa diventiamo grossi grossi e stiamo già morti sì che bello raga grande partenza grande partenza col botto la skin di deadpool ci porta veramente bene siamo morti subito ok calmo quella partita prima non è mai esistita signori la partita prima non è mai esistita facciamo finta che non sia mai esistita ripartiamo da zero ok calma calma mangiamo piano piano qui per entrare in classifica ciò non 6.000 punti se noi non siamo arrivati nemmeno a 2.000 per sbaglio e non riusciremo mai a raggiungere 6.000 punti per entrare in classifica però ci proviamo ci proviamo allora nei commenti mi avete suggerito di inserire dei codici per mettere le varie skin particolari ma io non so mi niente come si faccia questa questa cosa raga quindi o me lo spiegate giusto nei commenti o non so mettere questa cosa l'unica cosa sono riuscito a fare cambiare la skin cliccando sui sull'opzione in basso a sinistra che ti da direttamente lui infatti siamo con la benissima skin di deadpool ci stiamo facendo gli affari nostri e stiamo stiamo piano piano crescendo certo ci vorrebbe qualcuno morto male vicino a noi che ci desse tante belle smarties colorate per esempio secondo voi questo non muore dai uno di questi deve morire uno di questi deve morire male sì no 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 torni indietro torni indietro zio si è ucciso da solo si è ucciso da solo e no perché siamo morti noi ecco così impari così impari perché siamo morti noi doveva morire pure lui c'è stato un frontale un faccia a faccia ci siamo dati un bel bacetto e siamo morti così mamma che siamo morti male però la vendetta la vendetta esiste raga la vendetta no non è la vendetta che esiste cos'è che esiste non mi ricordo cos'è che esiste però qualcosa esiste la giustizia la giustizia esiste infatti il tizio è morto subito dopo voleva fare lo sperto e invece è finito per morire male allora riusciamo a trovare qualcosa di interessante quello è impazzito va bene andiamo andiamo dai 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 qua per entrare in classifica ci vogliono 9937 punti minimo raga qualcosa di impossibile non vedremo la classifica nemmeno in questo in questo episodio raga niente da fare proviamoci proviamoci vediamo che succede vediamo che succede ora qui ne è morto male uno ne è morto male uno mangia 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 zio mangia zio si l'abbiamo ucciso noi raga non so come abbiamo fatto non so come abbiamo fatto ma l'abbiamo ucciso noi non so per quale grazia divina ecco siamo morti quando non so porto questo gioco raga ma perché lo porto ma perché mi fa sclerare male ma quanto mi fa sclerare qua ci voglio 10.000 punti per entrare in classifica raga 10.000 punti che sto 10.000 punti niente che ci vuole a fare 10.000 punti un un batter di ciglio gli facciamo in pochissimo tempo 10.000 punti qua qualcuno riesce a morire qualcuno muore male sì mamma com'è morto male questo mamma com'è morto male questo è morto male pure quello daglie 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 torno indietro ok pigliamoci i nostri punticini senza dar fastidio a nessuno raga fateli dare fastidio fra di loro che si ammazzano e noi riusciamo a guadagnare punti vita tutto quanto in mezz'ora che giro sempre allo stesso punto per cercare di pigliare ste pallini ok ce l'abbiamo fatta siamo a 490 non è male non è male 490 ma perché parlo ma perché parlo guarda guarda come se va indisturbato e se magna tutti i nostri punti mannaggia a lui mannaggia mannaggia a lui dai ce la possiamo fare ce la possiamo fare raga dobbiamo semplicemente morire così come siamo morti adesso ma che siamo siamo dei pro raga cioè siamo dei campioni di slitherio raga cioè i più grandi giocatori di slitherio beh siamo noi ma volete scherzare qui per entrare in classifica c'erano 14.000 punti ma stanno a gioco a tutti i slitherio stamattina impressionante impressionante comunque ragazzuoli domani uscirà un video su ciao amico ciao amico c'è stato un fianco a fianco bellissimo ognuno si è andato per la propria direzione nessuno si è fatto e tutti siamo fatti i fatti nostri dicevo ragazzuoli domani uscirà un video di la maullocraft in cui abbiamo sistemato un attimino il portale del nether ci sono stato un sacco per farlo quel cavolo di episodio perché non sapete quante volte sono morto ancora nel nether lo vedrete domani però ci siamo riusciti ci siamo riusciti e poi prossimamente tornerà anche la il nostro circo venezia sul canale che giustamente non un attimino messo da parte però anche quello tornerà signori miei torneremo perché il nostro obiettivo è sempre quello di fare il triplete quindi cercheremo di tornare anche con quell'avventura per completare la stagione per completare la stagione uno è morto uno non è morto uno mi ha fregato tutti i punti questo mi ha fregato tutti i punti mannaggia a te devi schiatta male e invece siamo schiattati noi male ci vuole un po di calma relax calma relax calma relax ci vorrebbe una canzoncina rilassante un qualcosa che mi mette mette a darmi mette mio agio mi rilassa non mi fa fa ste cretinate mi fa giocare bene e invece non c'è la musichetta non c'è un tubo non c'è c'è questa skin di di pur che ci sta portando più sfiga che altro praticamente invece di darci la sua potenza sua invincibilità la sua superiorità la sua forza la sua non so che cos'altro dire e invece non ci sta portando assolutamente niente dai dai così vai 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 bellissimo bellissimo serpentella siamo da soli in questa partita non c'è sta nessuno siamo da soli siamo soli soli vaghiamo per la città e tante smarties noi mangiamo di qua e di là e diventiamo belli grossi così poi ci mangiamo vari vermicelli che ci fa vedere quantomeno uno l'abbiamo ammazzato no 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 sei un bastardo sei un bastardo sei un bastardo sei un bastardo uno si impegna per fare le cose bene poi arriva un quacquara qualunque e ti frega tutti i punti non vale non vale ragazzi noi stiamo riuscendo a superare i 200 punti ragazzi 200 punti no vabbè gli orfini all'è cioè noi stiamo riuscendo a superare i 200 punti c'è uno schifo uno schifo uno schifo non ho mai giocato così male forse a slither io come stiamo giocando oggi però va bene però va bene però va bene dobbiamo semplicemente rimanere concentrati e cercare di riuscire a fare qualcosa di interessante cosa che non ci sarà minimamente in questo video perché è da mezz'ora che sto a giocare e non stiamo a fare stiamo riuscendo a fare nulla nulla non penso che non farò nessun taglio in questo video e perché proprio non c'è niente perché appena riusciamo ad affare un poco meglio un poco meglio schiattiamo male praticamente andiamo verso il centro andiamo verso il centro che dovrebbe essere la zona più popolata praticamente quindi dovrebbero esserci quelli più grossi pronti a morire oh che carino guarda quello lì piccolino e sono morti ne è morto qualcuno no sono usciti a dribblarsi da soli e quindi non ci andiamo per i fatti nostri continuiamo ad andare verso il centro qua c'è un interista questo secondo me me vuole fregarlo freghiamo noi raga una kill abbiamo fatta una kill l'abbiamo fatta quantomeno qualcosina ce la portiamo a casa stiamo per morire male no 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 stai lontano da questo zio mamma mia mamma mia qui la zona diventa diventa calda raga diventa calda ma riusciamo a sopravvivere riusciamo a sopravvivere siamo ancora vivi siamo a 290 o quantomeno a 300 ci stiamo arrivando raga a 303 ci siamo arrivati quantomeno dico a 300 ci siamo arrivati mamma quanto sono grossi questi raga mamma quanto sono grossi questi risca a scattarlo questo raga cos'è successo ne ho scattato uno bellissimo a me stanno a fregare tutti i punti no ne avevo ammazzato uno bellissimo raga ne avevo ammazzato uno bellissimo ma porca miseria ne avevo ammazzato uno bellissimo non sono riuscito a prendere nemmeno un punto raga nemmeno uno e siamo morti no 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 ne avevo ammazzato uno grossissimo un enorme un enorme ne avevo ammazzato raga siamo morti male ma come siamo morti in maniera stupido dai facciamo l'ultimo facciamo l'ultimo dai facciamo l'ultimo siamo tornati piccolini il nostro piccolo deadpool il nostro piccolo deadpool dai ma porca miseria ne ha ammazzato uno bellissimo raga allora qui per entrare in classifica ci vogliono 8.000 punti certo certo noi non riusciamo a farne 500 dico andiamo facciamo da guardia del corpo a questo no ci ha ucciso male lui altro che fargli da guardia del corpo ultima partita raga questo non l'avete mai vista questa partita non l'avete mai vista questa partita non l'avete mai vista allora qui per entrare in classifica c'è uno 3.000 punti raga qui dobbiamo entrarci per forza in classifica qui voglio entrare in classifica per forza dove stiamo andando bisogna verso la zona popolosa verso la zona popolosa aj qua c'è aj è una vecchia lottatrice di di wrestling qualcuno se la ricorda aj come lottatrice di wrestling hanno tutti i nomi molto fantasiosi dai 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 recuperiamo tutte queste bellissime palline sarebbe uno che schiatta male vicino a noi in modo tale che riuscissima a prendere tutti i 4.000 punti per entrare in classifica raga 4.000 punti per entrare in classifica non penso che riusciremo a farli nemmeno questa volta dai dai purtroppo abbiamo pure problemi grossi problemi di connessione raga perché mi lagga tantissimo forse se non mi laggasse così tanto riuscirei a avere più controllo praticamente la secondo me qualcuno sta per schiattare male qualcuno qua sta per schiattare male no qualcuno è schiattato male ma siamo completamente lontani no è schiattato magna 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 no siamo morti quando arriva una schiattà vicino a me raga c'è una calamita arrivano tutti 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 assurdo comunque ragazzoli niente non siamo riusciti ad entrare in classifica non penso che porterò più questo gioco perché mi fa solamente scala se volete qualche altro episodio scrivetelo nei commenti mi sforzerò per portarvelo detto questo vi ringrazio per guardare questo video vi ringrazio per il like per i commenti per i suggerimenti che mi vedete nei commenti noi ci vediamo domani sempre qui sul canale per un prossimo video bella raga ciao